L'Udinese ha dominato per i primi 20 minuti, poi è venuto fuori il Lecce e la partita ha assunto i toni di una sfida altamente drammatica. Da una parte la squadra friulana, la ricerca dalla vittoria di prestigio contro una big del campionato, dall'altra il Lecce, deciso più che mai a continuare la marcia di avvicinamento alla massima serie. E il risultato di parità premia per questo tutte e due le compagini, assegnando però a Lecce il merito di essere riuscito nella grande impresa di riagguantare un risultato ormai compromesso dopo il doppio vantaggio dell'Udinese. La squadra giallorossa, sostenuta da mille e più tifosi, ha cercato nei primi minuti di contenere le folate offensive di Vagheggi e Soci, conterraneo, bravo sulla conclusione di Fontolan. L'Udinese è comunque passata in vantaggio al diciottesimo con Fontolan, che è riuscito ad anticipare i difensori salentini e da spedire in rete nonostante l'estremo tentativo di Terraneo. Punto sul vivo, il Lecce da quel momento ha reagito in modo convincente, andando vicinissimo al pareggio, prima con Vanoli. E poi con Migiano, la cui conclusione respinta da Abate, colpiva la traversa e finiva in angolo. Nella ripresa la svolta della gara, prima negativa per il Lecce e poi altamente positiva. Alla grande voglia di pareggiare dei salentini, tiro di punizione di Barbas, colpo di testa di Baroni e conclusione successiva di poco al lato di Migiano, rispondeva l'Udinese che raddoppiava con Vagheggi su calcio di rigore. A quel punto veniva fuori il grosso carattere di Barbas e compagni. Baroni prima dimezzava lo svantaggio sul tocco di limito a seguito di calcio di punizione e poi due minuti dopo Rudy Vanoli siglava il meritato pareggio con un tiro secco e preciso.